Nessuno scambio di prigionieri tra Indonesia e Australia. Il secco no è arrivato da Jakarta poche ore dopo la proposta di Canberra e il governo del premier Tony Abbott sta tentando in tutti i modi di salvare due dei suoi cittadini condannati alla fucilazione per traffico di droga e aveva ipotizzato uno scambio con tre trafficanti indonesiani, proposta subito respinta al mittente.